TED è un acronimo che sta per Technology Entertainment Design, è un acronimo di un'iniziativa nata addirittura 40 anni fa in America con dei TED Talk che sono diventati una vera e propria forma di esposizione, quasi un format. Hanno un obiettivo che è quello di dare spazio a idee addirittura che possono cambiare il mondo, questo è il loro tema. C'è la possibilità da qualche anno di realizzare dei TED localizzati nelle varie nazioni del mondo che si chiamano appunto TEDx, con la X piccolina che per essere chiari noi diciamo TEDx ma comunque quello è, va chiesta una licenza, noi l'abbiamo chiesta e ci hanno dato questa possibilità. Noi siamo molto orgogliosi di questo e soprattutto siamo anche molto contenti del fatto che il logo, il marchio TED sia così potente da averci permesso di vendere praticamente quasi tutti i biglietti senza neanche annunciare i nomi dei relatori. Forza del marchio è la parte importante perché fa da garanzia di qualità e questo è quello che ci siamo prefissi noi stessi nel selezionare i vari relatori. C'è un titolo però, questa è la parte bella, c'è un titolo che non è un tema, e anche questa è una cosa un po' delicata, non è un tema perché sennò risulterebbe una serata monotematica, invece no, però c'è un titolo che è i limiti intorno al quale noi abbiamo invitato i relatori a stare, per cui ogni relatore nella sua personale visione del mondo e di che cosa può essere l'idea da raccontare per cambiarlo, affronta l'argomento legandosi in qualche modo all'idea dei limiti. Per cui avremo un filozofo, avremo una manager, avremo una cooperatrice internazionale, avremo un ingegnere, avremo insomma un po' di tutto lo scibile che si raduna intorno a questa idea del limite. Questa serata è una serata a cui noi teniamo molto e di cui siamo molto orgogliosi, va sotto il nome di TEDx Pantano e qualcuno potrebbe anche chiedersi perché Pantano e non Pesaro e lì c'è un discorso perché il format del TED è un format molto molto stringente, è un format come sanno fare gli americani che dettano delle regole molto molto precise alle quali attenersi, che prevede che il primo anno che tu chiedi la licenza non puoi ottenere per questo tipo di licenza che abbiamo avuto noi il nome della città, devi proporre delle soluzioni alternative. Noi abbiamo proposto alcune soluzioni alternative tra cui i rossini e poi ci è venuto in mente Pantano, io sono di Pantano per cui mi è venuto in mente Pantano e agli americani gli deve essere piaciuto questo Pantano, probabilmente e chissà cosa si sono immaginati che volesse dire, chissà perché, per cui alla fine il TEDx è Pantano, anche se si tiene a lastra poi, in realtà che a Pantano non è ma tanto Pesaro è tutto un unico grande quartiere. L'unica l'ultima cosa che voglio dire sulla quale poi vi lascio è questa, che a far da preludio a tutto il TED ci sarà una sorpresa e la sorpresa invece la voglio fare ai telespettatori di Rossini TV, la sorpresa è che ci sarà qualcuno che già solo per il fatto di esserci è la incarnazione del superamento dei limiti ed è lì perché è identificabile con Pantano. Quel qualcuno è Carlo Pagnini che sarà lì appunto impersonificando il superamento dei limiti già solo con la sua data di nascita, 14 luglio 1928 e naturalmente farà un saluto in quanto Pantanese Doc a tutti quelli che interverranno al nostro TEDx Pantano.